muri a secco e costruzione militare ancora ben conservata della mulettiera che andiamo a prendere per arrivare a unirci alla zona lì perù della strada qui sopra come detto prima c'erano dei baraccamenti anche qua venivano fatti due baraccamenti in legno qua non so perché roba perché la truppa essendoci un po' di filigli era abbastanza era abbastanza fornita e da qui da quelle spine qua c'era la postazione che ho detto prima che entrava e che portava la bombarda qua sotto vi faccio vedere ancora un pezzettino della bellissima mulettiera come vedete ancora ultimamente conservata cioè ultimamente conservata io per non essere mai stata curata in tutta la sua vita è anche troppo bella